benvenuti benvenuti a tutti ben arrivati a questa prima lezione di social net fucking ovvero come scopare il fantasmagorico mondo dei social network lo so lo so fate fatica ad ammetterlo e quindi non mi chiederò di farlo ma sia voi sia io sappiamo che la vostra presenza in quest'aula a quest'ora di sera conferma un unico si acciame dato il fatto e cioè che vorreste imparare a rimediare un bel po' di cazzi un bel po' di fuga grazie all'ausilio della beniamata rete globale viviamo nell'epoca di internet Dottor Polona Dottor Polona Dottor Polona Dottor Polona Dottor Polona Dottor Polona Grazie a tutti.